buonanotte ragazzi e domani come state? spero bene e ora questo video e continuo queste volte davvero per due o tre giorni mi fiamma si lavaggio a farlo, non è detto, non ci voglio provare ok? e niente buonanotte a tutte, oggi ho fatto solo cose ho pulito la stanza, ho pulito la camera, si lavavano solo a casa e poi ovviamente sono andata a farlo spesa che ne ho bisogno ciao a tutti sono molto lento, niente? ciao ecco l'ho ecco l'ho ecco l'ho se vedete con questa maia questa mi la uso solo per non la la esco il tempo solo per... per niente, per... per dormire e basta e... e non la... e dunque, ogni interrogante per questo, voglio dirvi che... se cuciniamo a questo video, per l'altro letto, mi chiamato le mie belle skin care skin care, boutique care domani mi dottono me la mancia perchè domani devo mandare alla mandalena, davia tuttoressa, un like però, tanto... faccio qualche video quando torno faccio videoblog e poi... via... comunque, non lo so, farò un altro video, quello di piacere a voi non lo so, perché ho? non lo so niente ho tutta la mia... tutta la mia... discromia però... infezioni... tutta la mia... come dire... ho un caille... perchè... sono struccata... sono struccata poco fa... e adesso sono... tutta... guardavo le problematiche... niente... sono struccata... quindi... ok... quindi... l'ho mangiato oggi... ho mangiato poi... niente... ho mangiato adesso... ho mangiato la bistecca... con queste le mattine... mi porta... poi... delle patatine al forno... buonissime... e poi... ho mangiato un caffè... e me l'ho preso caffè... me l'ho preso caffè... alle 8... di sera... non so... però... è perché... avevo... studiato mille di educa... altre vizi da fare... e poi... ovviamente... mi può capire... allora... le fette... i capelli... e i capelli... perché... è un suono terribile... cioè... ma... mi piace vedere... che... niente... ma io... non lo so... non lo so... perché... non mi si parla... tutto lì... e... è bello... non lo so... a niente... quindi... non lo so... ragazze... penso che questo video... sia troppo convinto... e ci vediamo domani... ok... speriamo... ci vediamo domani... perché... perché... non ti cospiriamo... perché... non ci sono neanche... domani... per il telefono... registrare... tutto lì... già... ma... 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 che sonno... però... già... nel frattempo... sto... pensate per... qualche video... qualche video... appunto... di perché... io... quello... ho fatto... ho fatto... ho fatto... con le reazioni... sono in base italiane... quando lo faccio... lo farò... dopo il momento... di gioco... ve lo registro... in... si... ve lo registro... dico... come dire... dopo di questo... video... con il serioso... o... io... che sonno... io... ciao... e niente... ci vediamo... un altro momento... dai... anzi... già vi sento tutta... non vi dico troppo... perché... sono già stanca... ciao... buonanotte... se questo video vi è piaciuto... mettete un bel like... e ci mettiamo... ovviamente... iscrivetevi... viate fatela... come è là... e ci vediamo... in prossimo video... anzi... a domani... ci vediamo... se mi riesce... ciao... buonanotte... buongiorno... ragazze... come state... spero bene... questo è il mio risveglio... perché... da letto... da un po' si può svegliare... perché... mi sa facevo... mi ha svegliato... a vedere... dopo te... la verità... sto facendo a colazione... un po' si può svegliare... 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 si... ho capito... ho capito... ho capito... no... se la ripone... bene... ok... ho capito... ho capito... ok... ora ripetino... ho capito... ho capito... ho capito... ve le fisso... con questo... della Douglas... questo qua... vedete... non si potrà mai... se non lo metto bene... Douglas... ecco qua... mi tengo una buona decorazione... perché altrimenti... sembro... non so cosa... sembro... un fantasma... bene... ok perfetto qui devo lavorare di meno aspetta un secondino ok bene ora metto il collettore così all'inizio Grazie. 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 Poi c'è un po' il cannello, ecco qua. Lo metterò sotto e per lì in là. Allora, una pena di colore me lo do, ovviamente. Come c'è sto che sia. Ho fatto sotto i due pezzi della terra, ma va bene. Ed eccoci qua. Ok. 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 Grazie. Grazie. Ok. Sono troppo colorato. Già sono un fantasma. Già sono un colore un po'. Addio. Ok. Ok. E' così fatto apposta. Ok. 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 Molto intenso. Ok. Dostante. Ok. 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 si va guarda l'ombretto ok ops si è scattato ok si è scattato si è scattato quasi finito non vedo io che ho quasi finito ok bene perfetto modita applicata ora si sta proprio bene ora metto una penna di profumo ops qua mi sta cadendo tutto di più vabbè questa qua è la peglia vedete un attimo no per favore non ti interrompere ok ok perfetto e niente questo è il mio trucco di stamattina bene bene ora ho fatto metto gli occhiali e ci vediamo dopo per strada ovviamente non metterà non metto rosetta non metto niente però guardo così a dopo c'è qui stiamo andando a prendere la notte ragazzi Un po' dove sto parlando, un po' da panetta Ecco un ragazzo, sono appena uscita Sono Maddalena E sono appena uscita Sono appena uscita Sono appena uscita dall'ottoressa E niente E questo Adesso Tra poco con il traietto Ora sono Il giorno è 26 Non ce la posso fare Niente Dunque Sì o no Tranquillo o no Allora Adesso sono Sono qua Ho capito no, tranquilla E' un po' da Un'epoca Un po' da 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 Sì, è un po' pazzesco, bravo. Oh, tranquilla, no? Sì, è un po' pazzesco. Sì, è un po' pazzesco, è un po' pazzesco. Sì, è un po' pazzesco. Sì, è un po' pazzesco. Sì. 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 Grazie a tutti 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 Vi saluto se è così Che vi piaciuto questo video Non lo so Mettete un bel like e il supporto Un commento E' attivata la campanella Allora voi ci piate di iscrivervi al canale youtube mio Ok? Niente Dunque Noi ci siamo anche a un prossimo video E dopo questo video farò il video reaction Se mi ricordo non lo so vediamo Non è nulla Non è nulla Possibile perché non lo so vediamo Non è nulla di Non lo so Si pensano su ok Buon pranzo e a dopo Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti